Enzo Filoramo, mi pare che oggi le tue elezioni le hai vinte sotto un certo aspetto. Parlo di elezioni perché il fatto che le due squadre di Santa Teresa si siano riavvicinate e stiano partecipando ad un torneo assieme, è anche merito tuo. Ma no, i meriti lasciamo lì ad altri, nel senso che poi alla fine era una logica conseguenza perché quando si fa sport come lo facciamo noi da tanti anni e tu sei stato sempre al nostro fianco sai benissimo perché non ci sono interessi collaterali ma c'è soltanto il piacere di stare insieme, il piacere di fare sport sano e di avere un unico obiettivo che è quello di fare attività sociale perché poi alla fine questi ragazzi che vengono a giocare sono ragazzi che hanno bisogno chiaramente di uno sfogo, hanno bisogno di un riferimento e le società hanno questo impegno anche morale di andare a far crescere questi ragazzi. Purtroppo l'anno scorso tutti ormai sanno anche i dettagli ora di quello che sono stati i problemi con lo sport insieme, il tempo secondo me, come ho sempre detto, è galantuomo e quindi alla fine ci si resi conto che si è andato a discutere di nulla e quindi quando non ci sono più argomenti validi per poter creare delle discussioni, per poter creare delle separazioni, per poter creare dei contrasti su che cosa. Io non ho avuto mai nessun tipo di problema con nessuno, sono amico con tutti, mi piace ottenere questa affermazione perché la vita secondo me è così tanto breve che soffermarsi a discutere, a litigare facendo sport penso che sia anche un paradosso. Due squadre, una di promozione e una di prima categoria, quella di prima categoria zoppica un po' in questo campionato, in questa prima parte della stagione, mentre quella di promozione, altro che zoppica, non ha nemmeno le gambe, come si può fare per evitare di bruciare una stagione? Più potuto, secondo me... Una stagione, voglio dire, nel senso in generale, non nello specifico. Secondo me sei un po' troppo pessimista, sì, perché intanto lo sport insieme, secondo me, sta facendo bene. Se tu consideri che hai avuto una serie di difficoltà, perché ha cambiato tantissimo, hanno avuto problemi anche con questa tecnica, con Sebastiano, che secondo me ha fatto un te bene, e poi, non so, i motivi, hanno deciso di cambiare. Ora è arrivato Ante Paolo Cicciò, che è una persona che ha un'esperienza di questo campionato di promozione, non so, nemmeno decennale, che almeno lo riconosce stesso, che conosce benissimo l'ambiente. Quindi lo sport insieme, secondo me, ha tutti quanti i requisiti per potersi salvare tranquillamente, e glielo auguro proprio spassionatamente. Quindi non direi che non hanno nemmeno le gambe, è chiaro, hanno avuto difficoltà e ci sta. Per quanto riguarda noi, invece, ti posso dire che l'unico, secondo me, rammarevo che abbiamo, che ho fino ad oggi, è quello di aver avuto molte difficoltà. Noi, non mi nascondo qua, perché l'abbiamo detto sin dall'inizio, avevamo puntato molto su quello che è l'arrivo di Ivan Bricuglia a Santa Teresa, perché tu l'anno scorso ci hai eseguito e ti hai visto che questa squadra doveva essere rinforzata avanti con della qualità. E noi abbiamo preso, secondo me, il meglio che c'è nella Riviera Ionica, anche perché la nostra società ha come politica quella di utilizzare tutti i ragazzi del luogo, quindi non ci interessa andare a pescare ragazzi fuori dai due capi, da Sant'Alessio è entrata lì. L'alternativa, o meglio, abbiamo contattato anche Marco Antonio Prestipino per poter andare ad arricchire ulteriormente il reparto offensivo. Marco Antonio ha scelto di andare a giocare a Reggio, e quindi avere in organico sia Marco Antonio che Ivan Bricuglia avrebbe chiaramente dato un'impostazione ancora più forte a questa squadra. Abbiamo avuto questo problema anche con Ivan, Roberto Frazzi purtroppo ha avuto qualche problema anche lui fisico, ha fatto 9 partite delle 18 disputate e quindi sicuramente lì ancora una volta è il nostro tallone d'Achille. Però per il resto la squadra, secondo me, sta farendo benissimo, lo testimoni della partecipazione agli allenamenti, lo testimoni della compattezza del gruppo con te che c'è. Io sono in questo momento contento per quello che hanno fatto fino a questo momento. C'è il rammarico perché chiaramente gli obiettivi all'inizio stagione erano sicuramente diversi, nel senso che si voleva essere protagonisti proprio alla grande. Oggi siamo dietro a Taormina a 7 punti, a 6 punti dal Ghibellina. Numericamente potrebbe sembrare pesante il distacco, però io penso che il campionato ancora è lungo e quindi possiamo sicuramente rientrare tranquillamente. Quindi nulla è perduto, il giorno di ritorno è tutto da giocare? Sì, sì Pippo, tu hai i capelli bianchi, io non ne ho, tu hai i capelli bianchi e quindi sai benissimo che nel calcio, il calcio è bello anche per questo perché ti riserva delle piacevoli, le spiacevoli e le sorprese, dipende poi da come vengono interpretate. Quindi io penso, ho detto ai ragazzi, che noi dobbiamo continuare a allenarci come stiamo facendo, poi tireremo una linea e da lì poi faremo i conti. Poi usciamo sempre dal campo a testa alta e con la coscienza a posto, questo è fondamentale. Poi il risultato del campo è sempre accettato. Grazie. 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 Grazie.